Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 fino a lunedì chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Bologna. In FIPILI rampa di accesso chiusa per lavori in entrata a Levorno Porto in direzione Firenze. Fase finale per i lavori sulla strada regionale 445 in località Coreglia, in Garfagnana. Dal lunedì per 15 giorni la strada provinciale 57 sarà chiusa al transito per consentire di collegare il nuovo tratto stradale realizzato alla viabilità esistente. A Firenze è terza giornata di Firenze Rocks con il concerto degli Iron Maiden, tramvia attiva fino alle 2.30. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani buon viaggio! Anche per oggi è tutto, a domani buon viaggio!